Ragazzi, siamo pronti, siamo pronti per acquistare la nostra casa prefabbricata. Dobbiamo andare qui. Speriamo che i soldi ci bastino, ma forse possiamo ricorrere alla banca. Salve. C'è un vecchio figlio che conosco, mi ha detto che c'è queste domande che puoi comprare pre-cutta. Non è vero, amico. La prima volta in moda di convenienza. Conveniente e cost efficient. Quale domande vuoi? Qua domande è completamente unico, ma anche la stessa. Scusi? Talvez non mi sono troppo rapido, signore. Vuoi comprare una domande? Credo che. Io vi darò un luogiorno, unico, pre-cut palazzo. E se ti lo chiedi oggi, mi garantisco che il vostro casa in un paio di settimane, magari più tardi. Poi prendere questa domanda. Ah, sì, abbiamo questa domanda in stock. E ho già già la città, da la banca. Oh, fantastico. Ora, tu scrivi la tua nome qui, e tu signi la tua nome qui, e tu sarai la tua famiglia di una casa fabbrica. Questa è la tua famiglia di casa. È così facile. Plea di metterci, signor Martin. Albrett Cakes, Esquire, a tua servizio. No, 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 no. Ma... Eh, queste skinneri possono essere freddi. Come on. Mr. Devon, tu con me. Mr. Wayne, this is Milton. Jim Milton. Sir, buono di te. Mi ringrazio per la Manzanita Post. Perché? E andiamo. Oh, no, 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 no. e questo non cambia molto le cose e questo non è vero Tu puoi concentrare su i bambini. Ok, faccio proprio quello. Magari che ho fatto questo tipo di cosa prima, e magari che posso capire una arma. Ma non sono così diverso da te, partner. Credo che tu sia. Hey! Stiamo facendo la prossima direzione, verso la Manzanita Post. Cosa eravamo? La gente ricorda come puoi capire, vivendo con la scuola. Ma è la stessa di ogni altra occupazione. Quando mi arrivo, metto la scuola sull'arco, e lo resta là. Lo dico. Lo resta là. Non ho mai pensato. La mente è sulla mia esposa, e le piccoli. Prendendo la scuola, mettendo i bambini, mettendo i bambini. Ma quando sto qui, sto guardando la linea. Ho la scuola sull'arco. E sto cercando a rendere i miei emploii sull'arco. Questo è, uh, davvero bene. Sei in buone mani. Lo so questo paese bene. Bene. Bene, 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 sì sì. Questo qui, ragazzi, ci sta raccontando la sua bella vita, con la sua famiglia, con la sua famiglia, eccetera. E poi adesso schiatta questo. che vado e torno. Ok, vado e torno. Salve. Nils, sono io. Willard Wayne? Ok. Questo è il mio associatore, Jim Milton. Ok. Il ha detto che tu è il migliore, il migliore smith. Il bisogna delle strumenti. è costruire un'arco in Beecher's Hope. Beecher's Hope? Ok. Hai un'arco? Ok. 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 Ahia, ecco. Ok. 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 No. E' il trozzo. Ricarica? Ma porca troia! Perfetto! Quanto mi avete... Ma in quanti stanno? Guardate, si va per tutti! Oh, oh, oh! Guarda quello come corre per... Sì, sì, corre, corre! Guardalo lì, là! Ha ha! Ha ha! All right! You alive? For now. Mr. Devin, you okay? Yes. Is that the last of them? I think so. There's more! They got the tools! They grant Mr. Wayne! All right, stay here, guard the way! Charles, come on! They got me! Over here! Help! Mr. Bill! Mr. Smith! Help me! Over here! Sto arrivando, sto arrivando! Però caccia fuori la pistola! Cazzo stai facendo? We've walked into something! Get the cover! You may! They drew us! We have them now! We got to get the way! la cazzo è C'è meno male. come on they gotta be gated on them i hope so they're coming out of nowhere damn them where'd they take him mr. Wayne we're right here we're clear where's mr. Wayne? where's Wayne? shit lo sapevo ragazzi jesus we've got to move fast come on let's go back to the road god damn it few minutes ago he was chewing my ear off he knew what he was getting into did he? skitters everyone knows except me later john charles you all right carrying him? i got it there's no use in you getting bloody too is he is it bad? they opened him up pretty good they opened him up pretty good nearly chopped his head in two god damn them uh-huh mr. Wayne didn't make it dear lord no we have to get out of here you take him in the back wagon come on help me oh my lord andiamo via come on come on we gotta go shit those god damn animals those god damn animals okay john i'm riding with you get us back to beaches those were the skinner brothers i told you i was worried sadie said something too what kind of land have i bought john you'll run the horses into the ground it's not the land the skinners move around they're here for now i thought this this kind of bloodshed was meant to be over with what was all the nonsense about the civilization this kind of bloodshed it's different folks have been killed sure well good reason and bad well rarely just for the fun of it slow down john uncle 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 you useless sack of crap i was keeping guard really whoa what happened skinner brothers bottom all of them enough once this is done i'll take mr devin back to town and you pull mr wayne buried okay be careful i will but i'm fairly sure we scared them off for now bad business well we'll be safe together sure if you say so and john i love you don't you forget that you say you 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 Allora, questo ho anche ricevuto Ok Con la gente lì, ragazzi È estremamente cattiva e violenta Gli skinner Schizzer Sono schizzati E sono proprio qui Abitano proprio Sono i nostri vicini Vicino alla casa nostra La nostra terra Che cavolo Spero che se ne vadano al più presto E che non inclino ulteriori disturbi Perché altrimenti vado e li ammazzo tutti Comunque A parte ciò Abbiamo recuperato il legname E dobbiamo aspettare Attendere che ci portino Alla casa prefabbricata, giusto? Una cosa del genere, penso Però abbiamo una missione qui Quindi facciamo questo Dello zio Sì Zio ha bisogno di parlarti Ok Beh Cosa avrà mai da dirci ora lo zio? Beh, lo scopriremo presto ragazzi Presto, presto Grazie a tutti Grazie a tutti